Il termine camaleonte viene utilizzato non solo per definire una sottospecie di lucertole, alcune delle quali hanno la capacità della mimetizzazione, anche se in realtà è qualcosa di equivoco, visto che il cambiamento di colori scientificamente è dovuto a condizioni di luce o a atteggiamenti, oppure per riflettere la paura o l'aggressività dell'animale. Il termine camaleonte viene utilizzato correntemente per definire soggetti o anche oggetti che si prestano a essere particolarmente mutevoli, cangianti, di difficile collocazione. Ecco, questo è quello che si usa per dire di una persona che è un camaleonte. Ma se a Roma parlate di camaleonti, magari le persone che hanno 50-60 anni o un po' di più si ricordano di una vecchia gang, una batteria, come si diceva in loco, di criminali che si faceva chiamare la gang dei camaleonti. Anzi, magari si ricordano di uno di loro, uno in particolare, uno che proprio da quell'esperienza in quella gang prese il soprannome che lo avrebbe marchiato a vita, Er Camaleonte. Questa è la storia di Danilo Abbruciati. Figlio di un pugile, Otello Abbruciati, oltretutto chiamato il Moro perché aveva una carnagione un po' più scura rispetto a tanti altri suoi concittadini, Danilo cresce prima al Trionfale e poi a Primavalle. Primavalle è un rione costruito nel dopoguerra, un rione estremamente popolare, dunque povero, e lui stesso inizialmente sembra seguire le ormine del padre. Anche lui sale sul ring. Si dice che abbia anche delle doti del pugilato, nella cosiddetta nobile arte, Danilo Abbruciati, ma non ha tanta voglia di allenarsi, non ha voglia di spendere ore, giorni, settimane, mesi a far palestra, a far pesi, a correre, a saltare, a seguire le indicazioni del suo allenatore e anche di suo padre che non disdegnerebbe di avere un erede proprio nella sua disciplina. No, Danilo ha altre idee per la testa. Danilo è affascinato dalla dolce vita. D'altronde Danilo Abbruciati nasce il 4 ottobre del 44, quando Roma è stata liberata da pochi mesi dagli angloamericani, cresce nel secondo dopoguerra nella povertà, ha fame Danilo Abbruciati come tanti suoi coetanei, ma ha anche voglia di diventare presto adulto, anche a costo, o meglio ancora, anche grazie all'attività criminale. Un'attività che vede tanti ragazzi di Borgata impegnati in quegli anni a Roma. D'altronde il fenomeno delle batterie, le piccole e occasionali aggregazioni di piccoli delinquenti per commettere una rapina o un furto, si sprecano. Non basterebbero le dita di tante 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 mani per contare il numero delle batterie attive, anche perché le batterie solitamente durano due, tre, massimo quattro colpi e poi si sciolgono, ognuno per gli affari suoi. La gang dei camaleonti dura un po' di più e ottiene questo nomignolo, anche abbastanza lusinghiero, dalla stampa, che in quel periodo, siamo a metà anni 60, quando Danilo Abbruciati ha appena vent'anni, la stampa comincia a interessarsi al fenomeno della piccola criminalità romana. Quella criminalità senza padrone, quella criminalità quasi di sbandati, di occasionali, che però mette a segno colpi importanti e fa paura. I camaleonti non sono come le altre batterie, semplicemente non fanno rapina in banca. Preferiscono entrare nelle abitazioni, nelle ville dei ricchi romani, perché gli anni 60 sono quelli del boom economico. Roma non è solo la capitale politica d'Italia, è anche una città in forte espansione e con sempre più interessi. C'è Cinecittà che attira capitali stranieri e attori stranieri per dei grandi colossali. Ci sono i produttori cinematografici, ci sono i palazzinari che stanno diventando ricchi, molto ricchi, con il mattone, con l'ampliamento della città. Ci sono tante categorie professionali e non solo, che stanno facendo tanti soldi. E la gang dei camaleonti prende di mira i nuovi ricchi, gli entra in casa, trova quello che trova, lo arraffa e scappa. Ma questo per Danilo Abbruciati vale anche la conoscenza con quel famoso gradino di cui si dice a Roma che chi non ha salito quel gradino non è romano. È il gradino di Regina Celi, di uno dei carceri, anzi il carcere per eccellenza. E Danilo Abbruciati lo barca che ha da poco compiuto i 21 anni. È stato beccato. E dopo una piccola libertà vigilata, in cui riesce anche a ottenere una prima soddisfazione personale, va a vivere con una ragazza, diventa padre di una bambina, ebbene Danilo Abbruciati ritorna in carcere, stavolta per quattro anni. Sulla sua scheda ci sono diversi problemi. Non c'è solo l'attività con i camaleonti. Ci sono denunce per lesioni, maltrattamenti, addirittura un sequestro di persona. Denunce presentate dalla sua convivente, la donna che lui dice di amare e che gli ha dato la figlia, ma a quanto pare il loro rapporto è estremamente burrascoso. Anche in carcere Abbruciati non è esattamente un detenuto modello, è manesco. Ci mette poco a farsi rispettare, al suon di cazzotti, al suon di sberle. Non ha bisogno di farsi procurare una lama da fuori per regolare i conti. Se qualcuno lo guarda male, pensa con la sua semplice forza brutta. Quando viene trasferito a Milano, durante la sua detenzione, proprio quel trasferimento gli frutta, una amicizia piuttosto importante. È l'amicizia con un boss, uno dei re della Milano notturna, del Milano by Night, una Milano nascosta eppure conosciuta, frequentata. Ne abbiamo già parlato in un altro video che vi invito a rivedere. Questo nuovo amico di Danilo Abbruciati si chiama Francesco Turatello, ma per tutti è Francis, il re delle bische clandestine, il re della prostituzione a Milano, che da un po' di tempo ha un rivale, Renato Vallanzasca, il leader della banda della Comasina. Turatello è elegante, ma è anche spietato. Turatello intuisce che quel giovane romano ha delle potenzialità, può essere una persona utile. E Abbruciati avverte anche lui dell'affinità con Turatello. Gli piace il modo elegante, signorile, di trattare da parte del boss. Se linge amicizia con lui, col suo vice, Ugo Bossi, che dopo un po' uscirà dal carcere, ma dovrà farvi ritorno più tardi, parecchi anni dopo. Attraverso queste amicizie potenti, quando esce di galera, Abbruciati non solo torna a Roma, ma entra in contatto con un'altra banda, una banda ancora più famosa di quella dei camaleonti, che nel frattempo si è persa di vista. Una banda che sta dominando la scena della capitale. È la gang dei marsigliesi, la gang delle 3B, Bergamelli, Bellicini, Berenguer. Sono loro che terrorizzano Roma, ma anche la dominano Roma. Con i sequestri di persona, con le rapine, con l'usura, taglieggiando, controllando la prostituzione e facendo girare per la prima volta le polverine, la droga. Bergamelli, Berenguer e Bellicini sono i signori di Roma, anche se per poco tempo. Durano poco, qualche anno, prima che scattino le manette ai possi. Berenguer ovviamente non ci sta e scapperà. Gli altri suoi complici verranno presi. Bergamelli addirittura si lascerà andare in tribunale dicendo di essere stato tradito da qualcuno e che qualcuno la pagherà cara. Ma Danilo Abbruciati di questo, tutto sommato, si interessa poco. Anche perché è finito un'altra volta dietro le sbarre. Alla fine del 1978. 78, un anno così complicato per l'Italia e per Roma. Il 78 è l'anno del rapimento di Aldo Moro. Ne abbiamo già parlato. Il 78 è anche l'anno delle dimissioni forzate del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, e dell'elezione di Sandro Pertini. Il 78 è un anno davvero complesso. È anche l'anno in cui a Roma appare un'altra banda, un'altra ancora. Una banda che si manifesta con un sequestro. Il sequestro del Duca Grazioli Lante della Roma, che viene prelevato in campagna e tenuto sequestrato per un po' di mesi. Anche se viene pagato un riscatto, ma il nobile non tornerà mai a casa sua. È morto. È stato ucciso da un'altra banda, a cui era stata affidata la gestione del sequestro. Ucciso perché aveva visto in faccia uno dei sequestratori. Quando Danilo Abbruciati esce di prigione, nella primavera del 79, trova una Roma molto cambiata. Una Roma in cui non ci sono più i marsigliesi, non ci sono più i camaleonti, ma è anche una Roma in cui, assieme a questa nuova banda, che si va formando sempre di più, si va strutturando, ci sono altri interessi. C'è la Camorra a Roma, che ha i suoi alleati o i suoi rappresentanti. C'è la mafia a Roma, che ha un rappresentante di peso, Pippo Calò, il cassiere della mafia, uomo della famiglia di Porta Nuova. E poi? E poi ci sono sempre i palazzinari, con i loro soldi che girano. E c'è la droga, che invade sempre di più le periferie, ma non solo. E poi ci sono le scommesse clandestine, ci sono i picchetti illegali, c'è il prestito a usura, lo strozzinaggio, i cravattari, quelli che ti mettono la cravatta al collo e poi cominciano a stringere, stringere, stringere sempre di più. Insomma, per un criminale sembra quasi il paradiso. Ci sono tante opportunità. E Danilo Abbruciati ci mette davvero poco a entrare in contatto con questi della nuova banda. D'altronde qualcuno già lo conosce. Franco Giuseppucci, Er Fornaretto, detto poi Er Negro, Renatino De Pedis, Maurizio Abbatino, detto Crispino. Sì, sono loro, sono i ragazzi di strada del romanzo criminale, della banda della Magliana. Danilo Abbruciati entra all'interno della banda della Magliana, forte di tanti, tanti, tanti appoggi e della capacità di creare un network. È quello che vorrebbe fare Franco Giuseppucci. Mettere da parte le vecchie tradizioni della malavita romana, le batterie che si sciolgono, i dupi solitari, i cani sciolti, e creare qualcosa di mai visto prima. Un'organizzazione criminale, tentacolare, su base pari, che possa comandare su tutta Roma. Con le giuste amicizie. Nicolino Selis, Nicolino El Sardo, ha portato in dote il rapporto con la nuova camorra organizzata, la NCO. Con il professore, Raffaele Cutolo, di cui Nicolino è stato compagno di cella. Er Pantera, Gianfranco Urbani, ha portato con sé i contatti col Sud America per fare arrivare la cocaina. E Pippo Calò, che è referente anche di Danilo Abbruciati, offre un altro canale ancora per lo smercio degli stupefacenti. Tanti soldi che arrivano, tante sostanze da spacciare. E poi ci sono i soldi da riciclare, perché d'altronde prostituzione, gioco d'azzardo, strozzinaggio, ovviamente la droga, fruttano soldi. Tanti soldi. Milioni, ma che dico, miliardi di soldi. Questi vanno ripuliti in qualche modo. Un po' di questi soldi vengono affidati al Sor Memmo, Domenico Valducci, negozio in Campo di Fiori, con un cartello esplicito, qui si vendono soldi, e che farà una brutta fine, ucciso proprio da bruciati, assieme a un paio di complici. Perché non era stato alle regole il Sor Memmo, aveva fatto sparire dei soldi, si era preso una percentuale che non doveva prendersi. Ma non c'è solo il Sor Memmo, c'è Nicoletti, l'ex poliziotto, che è diventato il cassiere della banda. E c'è Diotal Levi, un altro strozzinaro, un altro uomo che presta il denaro a usura e che poi va a riciclare, o che addirittura utilizza i soldi della droga, o della prostituzione, o del gioco d'azzardo, proprio nell'usura, per ripulirli. Perché da trono sono contanti, si fa presto a perderne le tracce e a rimetterli nel canale giusto, quello legale. Danilo Abbruciati tutto questo lo sa, perché è furbo Danilo Abbruciati. Quando entra nella banda, ormai ha già quasi 35 anni, Abbruciati è un nome pesante su piazza, anche perché ha un'altra amicizia ancora da sfruttare, quella con i neofascisti dell'euro, col nucleo dei futuri NAR. Uno di questi è oggi piuttosto famoso, lo chiamano Ercecato, perché ha perso un occhio in un conflitto a fuoco poco chiaro con la polizia. Massimo Carminati, il nero per dirla con la fraseologia di Decataldo, di romanzo criminali. C'è anche lui tra i tanti amici del Camaleonte, di questo personaggio così particolare, che entra a banda già formata, ma che diventa centrale come personaggio per la vita della banda, soprattutto dopo che muore Franco Giuseppucci, dopo che i pesciaroli, i proietti, avviano una guerra civile nella maravità romana, con la banda che reagisce con la vera e propria mattanza. Dopo la morte di Giuseppucci, la banda si spacca. Da una parte la vecchia guardia, attorno a Crispino, a Batino, dall'altra i testaccini, guidati da Renatino De Pedis. E coi testaccini si schiera a Danilo Abbruciati, perché ha capito che i testaccini sono vincenti. Vincenti anche perché hanno le amicizie giuste, sanno come far girare i soldi, hanno l'appoggio di Pippo Calò, hanno rapporti con Flavio Carboni, l'uomo dei tanti misteri del caso Calvi, ne abbiamo già parlato, l'uomo che sta costruendo un futuro immobiliare in Sardegna, l'uomo che sa come far girare il denaro. Anche lui. Sono questi gli uomini più ricercati dalla banda della Magliana, e anche da Danilo Abbruciati. Sono gli uomini giusti, sono gli uomini quelli che sanno cosa significa guadagnare soldi anche sporchi e quanto sia difficile ripulirli. C'è un canale, un canale sfruttato dalla banda, un canale di cui la banda si serve, ma non è l'unica. Se ne sta servendo Pippo Calò, per conto di Cosa Nostra, se ne sta servendo parzialmente anche Raffaele Cutolo, se ne sta servendo un personaggio strano, recentemente ricercato, scappato in Svizzera, un materassaio di origini pistoiesi, ma che di solito vive ad Arezzo, un uomo che aveva il negozio della Permaflex a campo dei fiori pure lui. Dice Ogelli, il capo della P2. Questo canale è il Banco Ambrosiano, il tempio della finanza cattolica italiana. Il Banco Ambrosiano viene ritenuto un Moloch, qualcosa di intoccabile, immarcescibile, impossibile da scalfire, immutabile, per sempre. Ma il Banco Ambrosiano inizia negli anni Ottanta ha tanti problemi, perché quei soldi che sono stati pompati all'interno sono andati a coprire delle falle di altri soldi che sono usciti e spariti nel nulla. E i soldi che sono arrivati per coprire le falle, che sono arrivati da Flavio Carboni, da Licio Gelli, da Pippo Calò, dalla banda della Magliana e da tutta la galassia della criminalità organizzata, quei soldi devono tornare indietro. Il problema è che il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, non sa come fare. Roberto Calvi, che è stato arrestato nella tarda primavera dell'81, è stato condannato, poi è tornato libero in attesa del processo d'appello, sta cercando nella primavera dell'82 qualunque modo per risolvere la crisi che sta trascinando a fondo il banco. Un giorno, a Roma, all'Euro, si ritrova Ernesto Diotalevi, il cravattaro, con Danilo Abbruciati. Gli dice Diotalevi che c'è un qualcosa da sistemare. Su, a Milano, una faccenda rapida. C'è un funzionario che sta rompendo le scatole e si è messo di traverso nella questione dell'Ambrosiano, che rischia, con quello che sa e con quello sta facendo, di mandare a monte tutto quello che è stato fatto in precedenza nell'affare del Banco Ambrosiano. Qualcosa che potrebbe dannuggiare non solo Abbruciati e Diotalevi, ma tutti i loro amici, vicini e lontani. Perché viene incaricato a Abbruciati? Perché lui Milano la conosce bene, era amico di Francis Turatello, è stato poco tempo prima a Milano per assistere Ugo Bossi nel corso del processo. Si era portato appresso un po' di amici della Magliana per questo. Era andato a pranzo in un ristorante pugliese, si era fatto un paio di pippate in compagnia, aveva parlato con l'avvocato di Ugo. Insomma, è uno che a Milano sa come muoversi, Danilo Abbruciati. E giusto per pagargli il disturbo, Diotalevi gli promette 50 milioni di lire per lui e per chi gli darà una mano. Bruno Nietu, origini sarde, un manovale della Maravilla. Il compito affidato a Danilo Abbruciati è quello di colpire Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. È lui che è identificato da Pippo Calò e da Ernesto Diotalevi come l'ostacolo affinché i piani di Calvi possano andare in porto per il salvataggio del Banco e soprattutto per far tornare a casa tutti i soldi che la Maravilla ha investito nel Banco Ambrosiano. La mattina del 27 aprile del 1982 Roberto Rosone esce di casa, abita a Milano e a pochi passi proprio da una filiale dell'Ambrosiano. Scende dal palazzo, va verso l'automobile, gli si para davanti un ragazzone, giubbotto di pelle, casco integrale in testa. Il ragazzone estrae una pistola, cerca di sparare, la pistola si inceppa, la scarrella. Rosone intanto ha capito, comincia a scappare a piedi, è un uomo di una certa età e non è nemmeno allenato, non fa molta strada. Il suo aggressore dopo aver scarrellato riprende a sparare, lo colpisce alle gambe, ma in quel momento dalla filiale lì vicina dell'Ambrosiano esce una guardia giurata, ha visto cosa sta accadendo. La guardia giurata è armata, ha una beretta. L'aggressore ha un complice che lo sta aspettando in mezzo alla strada, in moto, con il motore acceso. Sale alle spalle del guidatore, gli urla vai, parti! La guardia giurata si posiziona dietro di lui in mezzo alla strada, le gambe accavallate, prende la mira e spara. Un solo colpo che colpisce l'aggressore alla schiena lo scaraventa giù dalla moto, sull'asfalto, morto. Quell'aggressore è Danilo Abbruciati, anzi era, perché appunto il proiettile è bastato per ucciderlo sul colpo. Ma perché Danilo Abbruciati era andato a Milano? Sì, per Ernesto Di Otalevi e Pippo Calò, per quei 50 milioni, perché d'altronde Danilo oltre a essere manesco era anche abbastanza avido. Ma perché fare di persona un lavoro così sporco? E soprattutto perché non dire nulla ai suoi complici della Magliana? Non dire nulla a Crispino, a Batino, che comunque già da un pezzo nutre dei dubbi verso i testaccini? E perché non dire nulla soprattutto a Renatino De Pedis, con cui ha bruciati a tanti, tanti rapporti d'affari in corso? Perché questo silenzio? Perché non dire nulla neanche alla sua donna, Fabiola Morì, una ragazza di strada che dirà io Danilo l'ho amato come si poteva amare, ci siamo picchiati, io l'ho graffiato, però ci volevamo bene. Ma anche se il rapporto era turboletto, perché a Bruciati non ha detto nulla nemmeno a lei? Cos'era questa storia di andare a colpire Roberto Rosone e poi colpirlo per gambizzarlo come è accaduto o per ucciderlo come non è accaduto o non è riuscito a fare? Certo, Danilo Abruciati aveva abbastanza sfortuna con le armi da fuoco, anche altre volte la pistola gli si era inceppata, ma in questo caso gli è risultato fatale. Con la morte di Abruciati che è la seconda morte violenta di un capo della banda dopo quella come già detto di Franco Giuseppucci la separazione anzi il divario netto tra Testaccini e Vecca Guardia diventa incolmabile e a quel momento in avanti la banda della Magliana comincerà ad autodistruggersi. Non era abbastato nemmeno l'agguato teso poco tempo prima a Nicolino Sedis e in parallelo al suo guardaspalo. Nicolino che voleva più soldi si era stufato della stecca para per tutti. Non era abbastato nemmeno quello a riportare pace all'interno della banda. La morte di Danilo Abruciati oltre a lasciare tanti interrogativi legati soprattutto al banco ambrosiano apre la stagione della guerra interna alla banda. Una guerra che si concluderà solo dopo tanti anni dopo tante morti dopo uno sterminio interno dopo i primi pentiti prima Claudio Sicilia il vesuviano che però non viene creduto e viene ucciso dalla banda. Poi Ulvio Luccioli il sorcio l'uomo che assaggiava la droga e poi Abbatino che si decide a parlare dopo che la banda gli sequestra gli servizia e gli uccide il fratello e poi i fratelli Carnovale e poi tanti anni. Una storia quella della banda Amagliana che vede Danilo Abruciati prima spettatore interessato poi protagonista attivo e infine motivo di litigio e di spaccatura. È una storia affascinante è stata descritta come un romanzo criminale ma a volte la vita sa essere ben più cruda e crudele di un qualsiasi libro. Grazie a tutti.